piccola test 800 metri yard yard pardon yard come dice yard yard piccolo test con le tld a 800 yard in previsione della gara notturna a lei tetesco tetesco no allora partiamo due slater eh parti prima te via le bandierine parte prima quello di destra parti prima te cane 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 vado cosa si eh ciao valter ciao vento zero a 4 però tanto non va a scartare poche balle insider buona perfettamente a 4 ore 3 secondo 4 4 sotto ai 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 non converte non converte ai 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 non mi sarei fatto troppo presto bubolla ai 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 bubolla bubolla io tengo la bubola tolgo un colpo io tolgo un colpo la sfida è aperta fuoco libero fai il ternato va un po' come a Bisley vai il ternato uno te e uno me 5 un bel 5 vado io 5 un bel 5 cosa dice quel gufo di là 5 ah oh oh ah ti è la batteria che ti è lei è appassionata di 5 ovvio ovvio che comunque sono meglio del 4 eh beh quello che farà Eric Scaglia adesso eh cerca un bel 4 si un bel 4 ci può stare ah ma per il 4 c'è sempre a tempo per il 4 è sempre in agguato il 4 poi tirando alternati c'è sempre il rischio del 4 ciao ah 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 cosa ne pensa eh eh culo culo ah culo dice rabbino va a rabbinare rabbino adesso ti rai un bel 4 si concentri ripeto ripeto queste Rosler io non le farai combattere queste questa sfida comincia a diventare calda ruventi Zanelli Zanelli ha scritto molto culo 5 5 un bel 5 la bandiera che gira 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 2 5 5 ah 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 che comunque è meglio del 4 che è meglio del 4 che è meglio del 4 che è finita lì certo certo che è finita lì non ci sputiamo sopra i 5 ah no cos'è quello un 22 si 22 si ah 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 qualcuno ti ha mandato una cosa Zanelli che porta sfiga arriva anche per te Eric guarda Eric attenzione perché è inaguato no no col cavolo col cavolo un 5 5 siamo sempre lì boia chi molla qua condizioni meteo perfette vento zero visibilità ottima beh insomma sopra qualche qualche tiratina la dà qualche tiratina sulla dà un altro bel 5 dove che l'ha fatto 5 ore 11 5 ore 11 tu zommato è già lì è già pronta vuole già andare free free oh un altro un altro 5 sempre lì stai chiudendo la rosa però eh sì 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 li parcheggia lì li parcheggia lì compensandola anche pure dove andavi però attenzione che forse forse è il pelo della vibule no io dico che è un cio arriverà anche un 3 per te tranquillo guarda che gufo gufiamo gufiamo o un 4 vibull vbolla vbolla ancora lì vbolla sempre vbolla è soddisfatto sì più vboll per tutti eric eric ma tu compensi sa allora tu compensi eh compensi eh 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 guarda non può fare queste domande in piena sfida scusi anche lei eh guarda qua la telecamera come più chiara di questa fighissima c'è c'è Zanelli che guardalo hai vinto sento odore di gufo cazzo sento odore di gufo occhio occhio perché qua le vuole spingere fuori è qua occhio tema qua è Zanelli che gufa per per Zanoli Ale dice che è Zanelli eh sì Zanelli 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 Luca in ogni caso ti sono davanti i due punti eh sì Dio di una pipatina ascolti me dove l'ha messo io la pipatina che si ripende subito per parcondicio ti tiro un 4 no tira un 2 adesso ti tiro un 4 per parcondicio eh sì guarda un bel 3 mamma che gufo perdono l'ho chiamato parcondicio parcondicio però però non è l'errore ma lei è un signore lo sa lei è un signore davvero vabbè ti tireranno via allora per parcondicio una classe infinita lei è un signore davvero differenza di 2 punti eh o di 3 complimenti per questa sfida eclatante inteso entusiasmante bisognerebbe bere un po' meno in fase di tiro comunque